Assessore di Cardona, probabilmente sarà a conoscenza in quanto assessore ai servizi sociali del Comune di Naro della situazione in cui versa la signora Contato a Naro. Vive in un'abitazione faticente, senza acqua e senza luce. Soprattutto l'ho contattata perché ha lanciato accuse ben precise ai servizi sociali. La signora Contato e tutta la famiglia è ben nota al Comune di Naro e in particolare all'ufficio servizi sociali da sempre. Di loro ci si è sempre occupati negli anni e anche adesso chiaramente ci occupiamo di loro. La signora in questione fa parte, lo sappiamo, di un nucleo disagiato. Ha dei figli che sono accuditi amorevolmente dalla sorella e per i quali il Comune di Naro trimestralmente paga le spese per il trasporto al CTS di Canicattì. Inoltre per tutte quelle che sono le possibilità di poterle aiutare dal punto di vista economico si è sempre provveduto ad aiutarle fino a qualche giorno fa. Parlo di, non di preciso, non ricordo, ma penso una settimana fa, massimo dieci giorni fa, si è provveduto ad elargire un contributo economico per aiutare la signora a provvedere alle spese familiari. Il Comune di Naro non ha grandi possibilità, come tutti i comuni sappiamo, per cui per quel poco noi cerchiamo sempre di aiutarli. Inoltre si sta provvedendo anche a fare degli interventi specifici all'interno del nucleo attraverso il servizio sociale, quindi sempre le assistenti sociali, proprio per vedere un po' di risolvere in maniera, diciamo, più radicale il problema. Stiamo lavorando per loro. Non mi risulta che ci sia stata da parte nostra alcuna negligenza né una trascuratezza nei loro confronti. Quindi, se ho ben capito, il caso è attenzionato? Attenzionato, sì. Da sempre e sempre.